Cari amici e care amiche di Angoli, continuiamo questa serata di Santo Stefano condividendo con voi, entriamo anche questa sera nelle vostre case per chi si fosse appena sintonizzato con Angoli, vi ricordo che io rimarrò con voi ogni sera durante tutto questo periodo delle feste, quindi avremo tanti ospiti e tanti argomenti e questa sera continuiamo andando a raccontare quelle che sono state le tappe più significative per la nostra diocesi e condividiamo questi ricordi con la responsabile dell'ufficio stampa proprio della diocesi di Como, Enrica Lattanzi. Ciao Enrica! Ciao Dolores, buonasera a te, buonasera a tutte le amiche e gli amici in ascolto e buon Natale! Buon Natale, assolutamente buon Natale! Come dicevo Enrica il 2022 è stato un anno significativo per la diocesi di Como perché ci sono delle tappe davvero importanti ed è bello in questa serata ricordarle, condividerle con te e con gli amici a casa. Io andai davvero in ordine cronologico, quindi partiamo dal nostro amatissimo Vescovo Oscar Cantoni che diviene cardinale. Esatto, è stato creato cardinale nel concistoro del 27 agosto, l'annuncio era stato dato da Papa Francesco il 29 maggio al termine dell'Angelus ed è stata una sorpresa per tutta la diocesi e come ha detto il Vescovo stesso, l'ho raccontato più volte, l'ultimo a saperlo è stato lui ed è stata la persona più sorpresa di questa scelta del Papa. Abbiamo anche un servizio, condividiamo le immagini, vai regia! Il sabato 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali, Monsignor Oscar Cantoni, Vescovo di Como. Papa Francesco ha annunciato ieri all'Angelus che il Vescovo di Como, Monsignor Oscar Cantoni, sarà tra i 21 cardinali nominati nel concistoro del prossimo 27 agosto. Oltre al Vescovo Cantoni, altri quattro sono italiani. Cantoni sarà cardinale elettore e potrà quindi partecipare al prossimo conclave. Un cardinale comasco, oltre che Vescovo di Como. Nella storia accadde l'ultima volta nel 1894. Carlo Andrea Ferrari, Vescovo di Como, venne nominato cardinale da Papa Leone XIII. In rapida successione, Monsignor Ferrari, che partì da una famiglia di umili origini, venne elevato a Arcivescovo di Milano e poi cardinale. Ancora prima si risale al 1686, quando Papa Innocenzo XI, il comasco Benedetto Descalchi, creò cardinale il Vescovo di Como, Carlo Stefano Ciceri. Preghiamo per i nuovi cardinali, affinché mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma. Per il bene di tutto, il Santo Popolo di Dio ha esortato il Santo Padre. Oscar Cantoni, nato a Lenno, trasferitosi con la famiglia all'età di otto anni, a tre mezzo, entra nel seminario di Como nel 1970, dopo gli studi classici compiuti al Collegio Galio di Como. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1975 dal Vescovo Monsignor Teresio Ferraroni. Subito dopo l'ordinazione, gli viene affidato il delicato incarico di curare la pastorale vocazionale diocesana. Nel 1986 è stato nominato padre spirituale del seminario di Como, incarico mantenuto fino al 2003, anno in cui è stato nominato vicario episcopale per il clero. Nominato Vescovo di Crema il 25 gennaio 2005, ha ricevuto l'ordinazione episcopale nella cattedrale di Como per le mani del Vescovo Alessandro Maggiolini, il 5 marzo e ha preso possesso della diocesi di Crema il 19 marzo 2005. Il 4 ottobre 2016 viene nominato Vescovo di Como e inizia il suo ministero il 27 novembre 2016. Ringrazio naturalmente la nostra informazione che ha raccolto in questo servizio i passaggi fondamentali della vita spirituale di Oscar Cantoni, regalandoci poi questa conclusione che tu ci hai regalato. Naturalmente la comunità lo sostiene tantissimo. La comunità lo sostiene tantissimo soprattutto perché il Vescovo lo ha sottolineato anche questo in più occasioni. Il cardinalato non è un avanzamento di carriera ma è un aumento di responsabilità ed è un aumento di responsabilità condiviso con tutta la Chiesa locale anche perché questo riconoscimento è anche il frutto di un cammino di fede, di martirio e di santità che c'è nella nostra diocesi. E poi c'è un'altra tappa molto importante perché il 9 di ottobre arriva la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini. Allora, tra le altre cose, anche qui la provvidenza che si intreccia, la data della canonizzazione di Scalabrini è stata comunicata proprio nel corso del concistore del 27 agosto. Per cui è stata un'emozione grandissima essere nella Basilica di San Pietro e sentir ripetere in più occasioni e per motivi diversi il nome della diocesi di Como. E la notizia poi che Scalabrini sarebbe stato canonizzato era arrivata nelle settimane precedenti, a metà maggio, quando si è chiuso il sinodo diocesano. Perché noi stiamo ricordando tante tappe della vita della chiesa di Como. Quest'anno si è anche concluso il sinodo diocesano. Per cui veramente un intreccio, ma che aumenta la responsabilità di tutti. Perché sono dei doni, degli esempi, delle testimonianze che valgono sicuramente per la comunità credente, ma sono condivise con tutti. Naturalmente sì, anche in questo caso la nostra informazione ci dà delle belle immagini che riassumono ciò che è accaduto. Vai regia. Letta la formula di canonizzazione, i beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti sono santi. Ieri la canonizzazione in piazza San Pietro a Roma, presieduta da Papa Francesco. Scalabrini, il padre dei migranti e del catechismo, nato a Fino Mornasco, in provincia di Como, nel 1839. A Como ha studiato a liceo Volta e poi al seminario di Sant'Abbondio, divenne parroco a San Bartolomeo a 31 anni. Qui entrò in contatto con i tanti problemi sociali dell'epoca. Nel 1875 viene eletto vescovo di Piacenza, un pastore immerso nelle vicende storiche del suo tempo. Così lo ha definito il cardinale Oscar Cantoni, che era a Roma insieme con 200 pellegrini della diocesi di Como. Beatificato dall'allora Papa Giovanni Paolo II, il 9 novembre del 1997, a distanza di 25 anni, è santo. San Giovanni Scalabrini, come detto, il padre dei migranti, il tema dell'accoglienza, quanto mai attuale, è stato il punto cruciale dell'omelia di Papa Francesco. E oggi, nel giorno in che Scalabrini diventa santo, vorrei pensare ai migranti. E' scandalosa l'esclusione dai migranti. Anzi, l'esclusione dai migranti è criminale. Li fa morire davanti a noi. E così, oggi abbiamo un Mediterraneo che è il cimitero più grande del mondo. Le parole sono molto forti. Erika, so che vuoi anche ricordare due date prossime che si riferiscono ancora proprio a questo momento importante. Sì, perché dopo una beatificazione o una canonizzazione c'è sempre una messa di ringraziamento. Una è già stata celebrata a Roma proprio il giorno successivo, alla presenza di tutti i pellegrini provenienti da tutto il mondo insieme ai padri scalabrignani. Ma ci sarà anche un momento qua in Diocesi di Como e sarà il prossimo 15 gennaio, con una conferenza alle 15.30 con Monsignor Saverio Xeres, che parlerà dell'idea di chiesa di Scalabrini. Perché ecco, questa sua attenzione nei confronti degli ultimi e dei migranti non è qualcosa di improvvisato, ma nasce da una sua sensibilità. A seguire alle 17 ci sarà la messa con il Vescovo. Tutto questo sarà in cattedrale. Invece un pochino più avanti, il 4 marzo, ci sarà un pellegrinaggio a Piacenza guidato sempre dal Cardinale Cantoni. Grazie Enrica e ricordiamo con te l'ultimo evento significativo per il 2022 per la Diocesi di Como. Sto parlando naturalmente il 20 novembre scorso di Padre Giuseppe Ambrosoli, che diviene beato. Una grandissima emozione perché Padre Ambrosoli, anche lui figura gigantesca come credente, come prete, come sacerdote, come missionario. È dal 2019 che questa beatificazione è stata posticipata anche a causa della pandemia. C'era ancora qualche dubbio perché in Uganda c'era il rischio ebola, però anche in questo caso la provvidenza ha permesso di vivere la beatificazione di Padre Giuseppe. E anche in questo caso la nostra informazione ci dà le immagini riassuntive. Vai regia. E' una grande festa che vogliamo condividere con i nostri fratelli dell'Uganda, ma anche in tutta la Chiesa, nel mondo intero. Che cosa significa diventare beati? Non è un grado che porta avanti come nella società. È un sigillo che la Chiesa pone a tante persone, nelle quali ha intravisto una forma significativa di vita cristiana. Padre Giuseppe Ambrosoli è beato a Calungo tra la sua gente, dove è sepolta e dove ha dato la vita per salvare l'ospedale e la scuola di ostetricia, da lui fondati durante la guerra civile che ha colpito il paese. Alla cerimonia che si è svolta ieri hanno partecipato 20.000 pellegrini che sono giunti a Calungo da ogni parte del paese per assistere al rito di beatificazione presieduto dall'arcivescovo Luigi Bianco, nunzio apostolico in Uganda assieme ad una decina di vescovi concelebranti. Nello stesso giorno a Como, terra di origine del Beato, il cardinale Oscar Cantoni ha presieduto la Santa Messa di Ringraziamento nella Solennità di Cristo, Re dell'Universo, celebrazione trasmessa in diretta da Espansione TV. La nostra è una chiesa privilegiata, ha detto il cardinale Cantoni, che sostiene ancora con efficacia i suoi figli nel loro non facile cammino di santificazione. Noi siamo qui oggi, ma siamo frutto anche di un lungo cammino e di segni che si stanno susseguendo di mese in mese, direi, nella nostra diocesi. E non vorrei farli passare inutilmente. Vorrei ricordare che solo un mese fa, il 9 ottobre, a Roma si è svolta la santificazione di Monsignor Scalabrini, nostro diocesano, nativo di Fino, come sapete, parroco, priore di San Bartolameo. Poi il 6 giugno del 21, proclamazione del martirio di Sor Maria Laura Mainetti a Chiavenna. I santi si rincorrono, eh? Senza tralasciare nel 2018 la beatificazione di Teresio Olivelli, di Bellagio. E se qualcuno avesse ancora qualche cosa da dubitare, è certo che la nostra è una chiesa privilegiata. E intanto sono diverse le iniziative che la Fondazione Ambrosoli, che ha raccolto l'eredità di padre Ambrosoli, sta portando avanti per ricordare la sua figura, tra cui una mostra fotografica e un videodocumentarista a Palazzo Broletto dal 3 dicembre all'8 gennaio. Bellissimi ricordi e io ringrazio Enrico Lattanzi per averli condivisi con me ad Angoli, grazie. Grazie a te e tutta la redazione per aver ricordato questo cammino. Lo straordinario è comunque frutto dell'ordinario, quindi continuiamo su questa strada e ancora auguri a tutti. Auguri, grazie, grazie anche a voi per essere stati con me. Ci rivediamo domani. Grazie a tutti.